Buonasera ai telespettatori di Rete 7, vediamo insieme le notizie di stasera e di domani. Intanto questa sera ultimo appuntamento con Giovanotti, il concerto al Pala Alpitur di Corso Sebastopoli. Oggi e domani è chiusa via Biancè tra Corso Svizzera e via Digione per lo smontaggio di una gru. Mercoledì sciopero dei trasporti, 4 ore indetto da USB, lavoro privato. Vi informo che i mezzi si fermeranno, servizi urbano, suburbano e metropolitana, dalle 18 alle 22. Le autolinee estraurbane si fermeranno dalle 17.30 alle 21.30. Le ferrovie GDT si fermeranno invece dalle 10 alle 14. Vediamo alle notizie di domani, martedì 10 aprile. Controllo della mobilità da domani e sino a sabato in Via Napione, Vanchiglia, Madama Cristina, Cecchi, Corsi, Belgio, Casale, Emilia, Brescia, 11 febbraio. Domani mattina alle 10.30 la commemorazione nel 74esimo anniversario della battaglia di Monte Marrone e i giardini di Via Ventimiglia 164. Domani mattina gara di orientamento per gli studenti al Parco Colonnetti. Semafori in manutenzione da domani e sino a venerdì in corso Giambone, angolo Corsi, Corsica e Croce. Sino a fine servizio di venerdì, deviazioni di percorso in Grugliasco per le linee 44, 76, 89 e 89 Barrato. Domani e dopodomani deviazioni di percorso in direzione ospedale Gradenigo per la linea Star 1 e in direzione Corso Cairoli per la linea Star 2. Direi che è tutto, buona serata, buon viaggio e a domani.